Il ricordo e l'onore dovuto alla memoria e al coraggio del giudice Giovanni Falcone, della moglie Francesca Morvillo e degli uomini della scorta, Montinaro, Schifani, Dicillo, impone l'obbligo di non disperdere una lezione di legalità che ancora oggi mantiene la sua carica ideale. La mafia che 28 anni fa ha assassinato il giudice Falcone temeva il coraggio, la determinazione, la capacità di sezionare la struttura segreta della mafia con le sue ramificazioni più insidiose nei settori più disparati dell'economia, nel settore degli appalti pubblici. Quel patrimonio di idee certamente è ancora viva oggi ed è in ognuno di noi, in ogni cittadino. Soprattutto vi voglio rivolgere alle giovani generazioni che nel 92 non erano ancora nate e vorrei che a loro mi rivolgo in particolare per dire che lo Stato c'è, lo Stato ha sempre operato, non ha mai abbassato la guardia contro le mafie e che nonostante i tempi oggi siano cambiati perché è una società in evoluzione da un punto di vista storico, da un punto di vista sociale, la mafia è sempre stata combattuta con uguale intensità. E come ci hanno insegnato i magistrati Falcone e Borsellino, anche egli temuto per la sua attività, per la sua grande impegno contro le mafie, vorrei dire che proprio per questo oggi noi dobbiamo stare ancora più attenti perché le mafie hanno grande capacità di adattamento e soprattutto nei momenti di difficoltà come quello che stiamo vivendo oggi con il Covid-19 dove ci sta una mancanza di liquidità nei confronti delle imprese, nei confronti delle famiglie, dei più deboli. E allora lì dobbiamo noi essere attenti, fare in modo di monitorare, di monitorare assolutamente tutti quelli che sono anche i passaggi di proprietà perché noi dobbiamo assolutamente evitare che le mafie vadano ad introdursi nei circuiti delle aziende sane per acquistarne pacchetti azionari ed entrare in un circuito, diciamo, di illegalità. E allora io vorrei oggi più che mai con questa crisi che non ha precedenti, lo Stato non può e non deve abbassare la guardia. Le mafie utilizzano gli strumenti tradizionali, il ricorso all'usura e allora io vorrei dire che è necessario assolutamente vigilare sulle segnalazioni sospette che ci vengono dagli dei settori bancari e anche monitorare le procedure di erogazione dei fondi e i passaggi di proprietà delle imprese. In quello io ritengo che la nostra opera deve essere costante, continua, non dobbiamo mai abbassare la guardia, lo Stato c'è. Ecco, il segnale che io vorrei mandare oggi è proprio questo e che alla fine quello che è l'attività che hanno fatto le forze di polizia con il giudice Falcone, con il giudice Borsellino ritengo che questo faccia parte un poco nel DNA di ciascuna istituzione e di ciascuno di noi. Ed è questa una data del 23 maggio che a distanza di 28 anni dalla strage di Capace che è legata alla storia del nostro Paese e noi abbiamo il dovere del ricordo.